bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità sulle ultime 24 ore di fortnite parleremo della season 3 eh sì ragazzi perché piano piano ci avviciniamo al nuovo capitolo di questo capitolo 2 e cercheremo di fare un po' luce su quello che si potrà trovare ma voglio anche parlarvi della possibilità dell'arrivo di qualcosa in più riguardante deadpool di cui avevamo accennato ieri ma che sembra essere proprio confermato nel gioco prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere il video news di ogni giorno ma andiamo anche a vedere ragazzi alcune cose interessanti per quanto riguarda la nuova teoria di mida è una roba troppo contorta adesso ve ne parlo ve la faccio vedere è ovviamente una bella sbadilata di leaks volevo farvi però prima la domandina ci tengo tanto a leggere i vostri commenti qua sotto signori voglio che fate le persone mature che cosa ne pensi di valorant ok tutti stanno parlando di valorant valorant qui valorant e valorant valorant ok l'ho visto non è che parlo perché non ho visto ho guardato un'ora abbondante di gameplay di valorant non mi piace nel senso non mi viene da ridere miss mi somiglia un pochettino a csgo qualcosina di csgo ce l'ha c'è postarci il discorso della prima persona sicuramente non è male come ideologia ma non mi dite fortnite morto valorant big one l'abbiamo visto con apex abbiamo visto con tarkov l'abbiamo visto con cos'è battle royale lì di call of duty che non mi ricordo neanche gli abbiamo visti gli abbiamo fatto ciao fortnite è sempre qua però voglio le vostre risposte cosa ne pensate è veramente un temibile avversario secondo me no ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito invece a vedere badabadan daraban quello di cui vi parlavo ieri la variante in questo caso stiamo vedendo solamente la banana di alcune skin che prenderanno probabilmente la copertura di deadpool ieri sembrava essere un concept vi voglio fare vedere due secondi il video che vi ho fatto vedere anche ieri in modo che vi fate un'idea la cosa molto particolare però è che il concept potrebbe non essere in realtà un concept e vi dico anche perché se noi andiamo a zoomare proprio nel parafango davanti del nuovo autobus di deadpool è lì è lì c'è c'è la banana con la skin di deadpool e non solo ragazzi perché se noi andiamo a zoomare sulla nuova emozio il ballo quello della vespa sfrecciata è lì è lì e quindi potrebbe essere ragazzi che in realtà non sia un concept ma un nuovo regalo anche perché ragazzi potrebbe esserci un'estensione della season ve ne parlavo tra l'altro guardando un attimo nei file di gioco questo non dovrebbe essere pubblico infatti vediamo questa immagine come nella precedente season ma in realtà non lo vediamo in game le challenge di deadpool sono estese per 38 giorni il che vorrebbe dire questo è un dato aggiornato a ieri 7 aprile questo vorrebbe dire che la season sarebbe ancora più avanti del 15 maggio non saprei dirvi adesso con precisione con certezza il perché sono così lunghe le sfide sappiamo solo che ci accompagneranno fino alla fine di questa season però se andiamo a dare un'occhiata ragazzi sempre nei file di gioco notiamo che sono partiti i test per la patch 12.50 ed è ufficiale questa cosa perché sono proprio dei test che fanno su server privati ovviamente e dove si provano appunto le nuove funzionalità perché è così importante questa cosa perché essendo la patch 12.50 e se oggi o domani non pacciano è ovvio che la season verrà prolungata perché la patch sarebbe dovuta essere la 13.00 come la season 13 ovviamente quindi stiamo ad aspettare infatti ci stanno dicendo alcuni leakers che quello che vi ho appena detto in poche parole se non arriva oggi o domani la patch c'è poco da fare dobbiamo aspettarci un prolungamento sappiamo però invece direttamente da fortnite status che verranno fissati alcuni problemi comunque con l'arrivo del prossimo aggiornamento il codex pickaxe è stato disabilitato dovrebbe riessere abilitato sinceramente non ho in mente che piccone sia così su due piedi ci sono dei problemi per i giocatori da ps4 che hanno una qualità bassa delle texture nella mappa miglioreranno anche quella e ci sono invece anche problemi per l'audio a schermo insomma per l'opzione per i non udenti dove vediamo insomma tutte le cose a schermo i forzieri i passi che a volte invece non funzionano bene non sono dinamici dovrebbero essere fixati queste le migliori cose che ci dicono che verranno sistemate ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché non lo sapesse è stato aggiunto un paio di giorni fa un countdown anzi il countdown nei file di gioco perché lo chiamo il countdown perché in realtà è sempre lo stesso è il timer olografico che l'ultima volta vi ricordo lo abbiamo visto sopra il portale dell'ex lago quello gigante in mezzo alla mappa vi parlo ovviamente del capitolo 1 vi lo ricordate ragazzi anche sopra se non ricordo male i tre magazzini c'era un timer olografico questo vorrebbe appunto dire che sta per arrivare un evento non si capisce bene di quale evento si parli io mi auguro appunto che sia quello dell'agenzia e molti banalizzano e ironizzano il discorso che sia invece Travis Scott ma direi proprio di no credo che dobbiamo aspettarci qualcosa appunto riguardante la storyline di questa season e parlando di storyline intanto vi faccio vedere un'immagine velocemente molto simpatica che sta girando in questi giorni è una fusione della mappa di questo capitolo e del capitolo 1 vi ho fatto la stessa domanda anche su instagram molto molto carina molto divertente beh sarebbe veramente una figata se si fosse la fusione delle due mappe in una sola però sono semplicemente cose simpatiche la cosa un po' più contorta di cui voglio parlare è questa immagine che ovviamente non posso spiegarvi totalmente perché ci mettiamo 20 minuti però ve la lascio bella gigante vi stoppate un attimo il video e ve la guardate per bene che cosa stiamo vedendo in quest'immagine? varie teorie che sono già state viste nei cartoni animati nella storia dedicate a Mida vi cito un paio di cose che potete vedere allo yacht allo squalo ci sono dei vasi che riprendono come disegni alcuni vasi che abbiamo visto nella storia della leggenda di Mida sappiamo che Mida quando si specchia in realtà vede il suo scheletro dorato Mida oro ok ci siamo capiti vediamo anche che Mida ha trasformato il suo gatto che era nero in gatto dorato una versione ad esempio di miascolo e tante altre piccolezze che ci fanno un pochettino capire meglio ripeto non ve la spiego tutta guardatela con calma traducetela se non sapete bene l'inglese perché è veramente molto interessante questa immagine prima di concludere vorrei farvi vedere una figata ragazzi un bug che c'è con il nuovo oggetto il coso gonfiabile che ti tiri sotto insomma il video si commenta da solo guardate un po abbiamo un giocatore che è a terra come vedete ha rimbalzato sul sul coso lì gonfiabile e guardate che cosa fa in questo momento lui torna indietro noi torna indietro guardate guardate si butta sopra e mentre si butta lol ne puoi buttare giù quanti ne vuoi o meglio quanti ne hai nel tuo loot quindi un bug che penso e probabilmente vada fixato il più presto possibile ma che potete sfruttare appunto per scappare se per caso vi buttano giù durante le partite beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate in live su twitch adesso ciao